Prima corsa del convegno che si inizia con questo premio Valentino OM. Prova per cavalli di tre anni, non vincitori, 9.000 euro in carriera. 1 Alma Pan, 2 Aladino Indal, 3 Asmira, 4 Amiaciac SM, 5 Artemisia Jet, 6 Artmail, 7 Astradino. Seconda fila 8 Apparizione Mail, 9 Avvoltore MDM, 10 Anxur del Circeo. Rimane arretrato con il numero 8 Apparizione Mail, parte piano anche il 7 di Astradino. Allo stacco della macchina prova a portarsi al comando Aladino Indal e vi riesce in poche battute nei confronti di Alma Pan, quindi Amiaciac SM e poi ancora il numero 5 Artemisia Jet. si va così lungo la piegata con il leader piuttosto ardente nelle mani del proprio interprete che cerca di moderarne comunque l'andatura. E così si arriva al completamento del primo quarto di gara in un 29,9. Della via del largo intanto è presa dal numero 6 Artmail, cui schiena si pone Artemisia Jet e così si arriva adesso al paletto dei 600 con il leader in 46,2. Quando siamo sulla piegata di destra il gruppo si è disposto in pariglia con Aladino sempre al comando. Il guadagna posizioni per linee esterne Artmail. La incorda rimane Alma Pan pedinata da Amiaciac SM quando siamo adesso sulla dritta di fronte con il gruppo ancora piuttosto raccolto. La terza pariglia esterna per avvoltore MDM. Quando siamo adesso al paletto del chilometro che viene via in 1,17 e mezzo da parte di Aladino che ora tende ad allungare quando si va ad affrontare la piegata conclusiva ne mantiene la schiena sempre al mapan per linee esterne. Si fa vedere avvoltore MDM in terza corsia l'errore di Artemisia Jet. Quando siamo alla fase terminale della piegata di sinistra per entrare in retta di arrivo con Aladino al comando ci prova adesso Alma Pan che accorcia nei confronti del leader. Poi si fa vedere ancora Artmail con all'interno il numero 4 Amiaciac SM. Ancora Aladino al comando con Amiaciac che filtra per linee interne. Aladino che si mantiene in evidenza nei confronti di Amiaciac SM. Mentre per il terzo posto c'è ancora Alma Pan. 2,2 e mezzo sul cronometro per il successo. Come da betting per Aladino Indal con Antonio Vitiello alla guida. Olga Rellert al training i colori della scuderia Indal. Il tempo al chilometro attorno all'1,16 e mezzo scarsi. 1,16 e 3 per il numero 2 di Aladino Indal che vedete venire a vincere senza grossi patemi d'animo. Buon secondo posto per Amiaciac SM. Filtrata per linee interne. E terzo posto per il numero 1 Alma Pan. Quindi 2,4,1 l'ordine di arrivo della prima dalle capanelle.